Ma non si capiva come mai le particelle elementari avevano masse così diverse fra loro. Ora si è capito che tutto è nato un centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang quando nell'universo, l'universo bambino, all'inizio, si è installato questo campo di X che ha cominciato a differenziare le particelle. Nascendo la massa delle particelle è nata la trazione gravitazionale e ha cominciato a formarsi la polvere, gli atomi, le galassie. Infine, anche noi siamo nati da quell'istante. Allora, questo ci costringerà a rivedere i libri di fisica. Come spesso accade per la scienza, ciò che appare un punto di arrivo, una volta raggiunto, apre la strada a molti più interrogativi di quanti si è in effetti in grado di spiegare. È così che adesso si studiano le caratteristiche della particella individuata per analizzare le eventuali differenze con il bosone teorizzato da X. Accumulando nuovi dati, noi siamo in grado di guardare meglio tutti i dettagli di questa nuova particella. E la prima domanda è i dettagli che misuriamo corrispondono esattamente a quelli previsti dalla teoria. In sé questa domanda è assolutamente cruciale, perché ogni variazione, ogni piccola deviazione rispetto alla teoria indicherebbe sì che questo è il bosone di X, ma alcune anomalie che indicherebbero la necessità di ricorrere a teorie superiori per le quali il modello standard è un caso particolare. La scoperta del bosone di X porta con sé una notizia meno importante per il genere umano, ma di sicuro interesse per l'Italia. La terra di Galileo, nonostante i gravi problemi che affliggono l'università e la ricerca, continua ad essere fucina di scienziati di altissimo livello. La nostra forza sono il cervello brillante di centinaia di giovani studenti che popolano le nostre università. Il fatto che le università hanno ancora, in particolare Pisa, ma insomma anche altre, hanno ancora livelli di eccellenza enormi. C'è un'organizzazione che si chiama Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che è snella, efficiente, ha dei laboratori efficientissimi. Questo secondo me è la prova che si adottasse criteri simili in altri campi di ricerca in cui siamo un pochino più deboli, anche lì otterremo enormi risultati. L'Istituto Leonardo da Vinci si mette in mostra, professoressa Grassi lo fa ormai da tempo con una mostra permanente proprio qui nei locali della scuola. Quando è che avete deciso di appunto mettere in mostra questi macchinari così belli e anche così che raccontano una storia così importante che è la nostra storia? Ormai questa mostra permanente ha 13 anni, quasi 13 anni, perché l'idea di organizzare questo tipo di esposizione è venuta nell'anno 2000, perché nell'anno 2000 ricorreva l'anniversario, il centenario della nostra scuola, e quindi venne l'idea sia al dirigente scolastico di allora e a un gruppo di insegnanti di tirar fuori dagli armadi gli strumenti antichi che avevamo, che non venivano più utilizzati, di restaurarli e di metterli in mostra, organizzare una mostra. L'anno 2000 fu un anno di festeggiamenti, ci furono tanti eventi, nella nostra scuola e uno dei più significativi fu proprio la mostra che venne accolta nella sala delle regie poste di fronte agli uffizi. Restò lì per 15 giorni e poi gli espositori vennero regalati alla scuola e sono stati qui nella nostra scuola per qualche tempo, poi fu individuata questa stanzone che non veniva più utilizzato, fu dedicato a una mostra permanente. Quindi attualmente noi ospitiamo questa mostra che può essere visitata a richiesta su prenotazione in qualsiasi momento, da scolaresche oppure anche da esperti di settore, da chi ha un qualche interesse per la storia della tecnica nella nostra città. Al restauro, soprattutto nel 2000, prima che iniziasse la mostra, hanno preso parte anche gli studenti, un'esperienza formativa di alto livello per loro. Sì, ogni specializzazione ha organizzato il gruppo di ripulitura e restauro, ripristino della funzionalità degli strumenti. Quindi hanno partecipato gli insegnanti, ma hanno anche partecipato le varie classi della specializzazione. Perciò quello che vediamo in mostra si deve al gruppo di lavoro, inteso come studenti e come docenti, dell'Istituto Leonardo da Vinci. E quello che vediamo in mostra è tutto funzionante, lo vogliamo sottolineare. Questa è un po' una rarità, soprattutto per alcuni pezzi che sono molto antichi. Sì, certo. È stato tutto ripristinato nella funzionalità per la quale era stato ideato, progettato e costruito. Alcuni di questi pezzi sono modellini in scala, perfettamente ricostruiti e incredibilmente belli anche da un punto di vista estetico. Alcune cose sono state costruite da insegnanti e studenti dell'Istituto, datati negli anni, risalgono agli anni 40-50, soprattutto per motivi didattici, per fare dei modelli didattici smontabili e più facilmente comprensibili da parte degli studenti. Ecco, c'è una parte della mostra dedicata agli orologi e diciamolo, questo settore è un po' il vostro fiore all'occhiello? Sì, è uno dei settori fiore all'occhiello, sia perché fa riferimento a una delle nostre specializzazioni storiche, che è la meccanica. Ricordiamo che le due specializzazioni iniziali dell'Istituto sono state l'elettrotecnica e la meccanica, che ancora sono due delle colonne portanti della nostra istituzione, che formano ragazzi che quasi sempre trovano lavoro con una certa facilità. Ecco, quindi la parte di orologeria fa capo alla meccanica, particolarmente alla micromeccanica. Ma in questi anni questo settore si è specializzato soprattutto nel restauro, nel restauro di orologi meccanici. Tant'è vero che i nostri docenti vengono richiesti in varie parti d'Italia, in musei, istituzioni, enti, proprio per il restauro di orologi antichi. Ricordiamo che uno degli orologi restaurati dai nostri docenti è l'orologio del Duomo di Firenze, quello con il frontale dipinto da Paolo Uccello. Una parte della mostra è dedicata anche all'odontoiatria, una specializzazione che, mi raccontava soprattutto, negli anni passati vedeva una grande richiesta. Tant'è che, infatti, nella teca troviamo anche dei numerini della tombola. Che cosa servivano? Sì, è abbastanza singolare vedere nella teca dedicata agli odontotecnici questa tombola. Ecco, negli anni Ottanta, quando ci fu il boom delle iscrizioni, ma questo succedeva in tutte le specializzazioni, era negli anni Settanta, Ottanta, era il periodo del boom delle nascite, quindi c'era una grandissima richiesta di iscrizione odontotecnica, soltanto che potevamo aprire quattro classi per motivi di spazio nei laboratori, per cui c'erano dei criteri di immissione nella specializzazione, però oltre a questi criteri poi alcuni venivano sorteggiati e questo sorteggio veniva fatto sulle scale dell'Istituto Professionale davanti a tutti i genitori per la massima trasparenza. Prof. Martini, la preistoria è uno dei periodi che affascinano di più gli studenti di ogni ordine e grado, però questa volta dal museo ci si sposta anche a qualcosa di più concreto, con dei laboratori Pianeta Galileo fa entrare gli studenti nel mondo degli uomini che ci precedettero. Sì, questa iniziativa di Pianeta Galileo ci permette di ampliare la nostra offerta formativa e informativa con gli studenti, lavoriamo con i bambini dalle materne fino all'università e i laboratori che abbiamo proposto e che sono stati accettati appunto dalla Commissione riguardano alcuni temi importanti che più incuriosiscono appunto come diceva l'utenza. Quello che più ci preme, anche perché è un po' il nostro cavallo di battaglia come specializzazione del museo, è l'arte preistorica, cioè la produzione figurativa che a un certo punto l'uomo nel cammino evolutivo intorno a 40.000 anni fa ha cominciato a produrre figure di animali, figure di uomini, ecco, di donne gravide, quindi la fertilità come uno dei temi di queste produzioni figurative e l'invenzione della linea quindi è un po' il tema ricorrente. Quello che vogliamo illustrare in questi laboratori non è solo la componente storica quanto anche la componente tecnica. Quindi i ragazzi parteciperanno a questi laboratori riproducendo con gli stessi materiali, con gli stessi coloranti e con le stesse tecniche opere che risalgono al paleolitico. Quindi soprattutto disegni e pitture con i colori tradizionali fatti con poco, con quello che c'era, non sono certo quelli moderni, e poi anche basso rilievi con del materiale speciale perché naturalmente non si può incidere la roccia a scuola. Sì, certo, verranno utilizzati dei pigmenti naturali, gli stessi che utilizzavano i preistorici, sono delle ocre, sono degli ossidi, e per sostituire la roccia nella tecnica del basso rilievo abbiamo un materiale molto tenero, una specie di cemento morbido, diciamo, che può essere scolpito senza procurare danno anche a mani piccole e inesperte. Ovviamente quando si parla di evoluzione culturale bisogna insegnare anche le notizie fondamentali che riguardano l'evoluzione del nostro corpo, l'evoluzione fisica, quindi delle informazioni di tipo antropologico. In questi laboratori, quando si parla di primo popolamento dell'Europa, viene mostrata anche a quali tipi umani si deve questo primo popolamento. Quindi mostrando le caratteristiche fisiche di progenitori africani che mai sono usciti dall'Africa, si passa poi ad illustrare le caratteristiche fisiche dell'uomo sapiens e anche dell'uomo di Neandertal, ai quali si deve appunto un popolamento importante, non il primo ma uno dei più importanti del nostro continente. L'ultimo laboratorio è forse quello più pionieristico. Sì, detective dell'archeologia, archeologia dei detective. Cosa significa? Vogliamo illustrare agli studenti le tecniche che si possono applicare in archeologia e che derivano dagli studi di medicina legale. Questo ci permette di ampliare le nostre conoscenze sulla preistoria, sulla conformazione, così anche per quanto riguarda il DNA antico di queste popolazioni, e poi soprattutto di verificare certe pratiche, per esempio nel rito funerario, se si devono ad atteggiamenti volontari, quindi rituali in un qualche modo, o se invece ci sono delle conseguenze nella deposizione funeraria casuali e che quindi restano un po' misteriose. In questa tomba che risale a circa 12.000 anni fa, accoglie due individui, uno maschile e uno femminile, adulti, e gli studi che sono stati fatti estraendo il DNA antico di entrambi, ci indicano che erano consanguini, hanno lo stesso DNA, quindi hanno avuto o la mamma o la nonna in comune. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS